Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola per un nuovo unboxing. Oggi apriamo insieme un titolo molto particolare che appunto ormai è uscito già da qualche mese ma che sono riuscito finalmente a fare entrare nella mia collezione. Ovvero sia questo 13 indizi, un titolo di Andres Wojku per 2,6 giocatori della durata indicativa di circa 30 minuti a partita, editato in Italia grazie alla Divi Giochi. Titolo nel quale i giocatori praticamente impersonano degli investigatori che devono indagare su differenti casi ciascuno e la particolarità del gioco consiste nel fatto che ogni giocatore conoscerà gli indizi di tutti gli altri ad eccezione dei propri. Direi di andare a vedere cosa c'è dentro la scatola, quindi vediamo di riuscire ad aprire che come sempre... ok, si apre molto bene, perfetto, quindi sigla e ci vediamo qui tra tra poco. Rieccoci qui insieme, un'occhiata come sempre doverosa all'artwork, molto evocativo insomma, molto semplice, ma che fa già capire verso che cosa andiamo, cosa ci troveremo davanti, qui un esempio di gioco, appunto una breve descrizione. Insomma, sono curioso di aprirlo davvero insieme a voi, per cui andiamo a vedere che cosa c'è dentro la scatola. Perfetto, molto bene. Iniziamo a vedere un pochino cosa ci propone il gioco. Abbiamo appunto il regolamento che è molto molto veloce, molto semplice, insomma un semplice foglio su cui viene spiegato un pochettino tutto, quindi molto semplice, proseguiamo e abbiamo allora questi che sono, vediamo un po', non so che cosa siano, 13 appunto, insomma questi dovrebbero essere le cartelle top secret. Probabilmente qua verrà messa qualche informazione per il fine partita. Può essere, non ve lo so dire con certezza. Abbiamo questo che deve essere il mega blocchettone, come vedete quanto è spesso, dove praticamente i giocatori possono un pochino, diciamo, effettuare le loro deduzioni, perché vedete che infatti ci sono i vari personaggi, persone, insomma credo che questo possa servire a modi diciamo una sorta di block notice sul quale scrive tutto, vedete che comunque vi assicurano ottima rigiocabilità, guardate quanti foglietti sono. Proseguiamo, abbiamo questo che, vediamo che cos'è, questo che immagino sia il tabellone da porre al centro del tavolo, molto bene. Immagino che questi siano gli spazi indicanti quando vengono usati, cioè per quanti giocatori vanno coperti. Bello, un cartoncino molto rigido. Queste sono ancora tre delle cartellette top secret uguali a prima, immagino. Esatto, quindi andiamo via rapidi, però un bel cartoncino, ora devo essere sincero, dà un'ottima sensazione al tavolo. Questi che sono dove praticamente immagino vengano messe le carte. Anche qui ce ne sono sei, uno per giocatore. Oh, questa è una cosa molto interessante. Sei matite già temperate, tutte con la gomma e tutte sigillate dentro. Insomma, comodo, comode. Rimarranno naturalmente al suo interno perché sennò scomparirebbero nel giro di pochissimo tempo. Abbiamo questi che sono dei portacarte, sembrano, dei portapersonaggi. Vediamo un po'. Ve ne faccio vedere uno, sono tutti uguali. Si, porta veramente carte di plastica. Molto utile, immagino. Un sacchettino vuoto, io sono già felice. Vedremo a cosa potrà servirci. Proseguiamo. Qui abbiamo, che cosa sono questi? Dentro un sacchettino e ovviamente io sono già contento. Basta poco per rendermi felice, immagino l'abbiate capito. Questi che cosa sarebbero? Sono delle tesserine buccate. Una V forse? Non so, non so cosa rappresentino. Ben fatti però. Un bel cartoncino molto rigido e molto funzionale. Benissimo. Abbiamo questi che sono da defustellare, immagino. Sono delle lenti di ingrandimento. Vediamo di defustellarne una insieme. Si defustella molto bene. Uno di quei cartoncini quasi plastificati. molto bella, appunto, con 13, il simbolo di 13 indizi. Vediamo se riusciamo a mettere un pochino a fuoco meglio. Proseguiamo. Abbiamo questi che sono, immagino, gli schermi dei giocatori. Esatto. E sono tutti uguali, quindi non sto a farveli vedere nel dettaglio, però molto belli. Anche qui un altro schermo. E infine le carte. Le carte che noi teniamo sempre sul fondo per godercele come, diciamo, ultima parte. Si aprono molto bene. Perfetto. Ho dimenticato l'ultimo pezzo. Ok, ce la facciamo. Eccole qua. Vediamolo un pochino nel dettaglio. La contessa, il macellaio, il duca, l'infermiera, la governante, la ballerina, il marinaio, la fioraia, il cocchiere. E poi i luoghi, quindi, vediamo un pochino di mettere meglio a fuoco. Il soggiorno, il parco, la biblioteca, il mercato. Sto a leggerveli tutti, però, belli questi disegni molto belli, molto evocativi. E poi le armi del delitto. La cerbottana, insomma, un metodo un po' particolare, fucile, dai, un pochino più. Qui ci sono un pochino candelabro, che in testa non guasta mai, insieme al martello. E l'arco, per un'uccisione un po' alla Legolas. E poi abbiamo l'interno della scatola, dove appunto viene richiamato il disegno dell'investigazione. Forse avremmo preferito, forse, un qualcosa per alloggiare tutto, non so. Però comunque la scatola è abbastanza piena, quindi non credo sia così necessario, poi, un qualcosa, effettivamente, per riporre il tutto in maniera adeguata. Però, vabbè, un piccolo dettaglio. Benissimo, questo era l'unboxing di 13 indizi. Ovviamente, fatemi sapere che cosa ne pensate, che mi fa sempre piacere rispondervi e sapere soprattutto il vostro parere. Io vi ringrazio, come sempre, per aver visto un altro unboxing di Dentro la Scatola e, naturalmente, ci vediamo al prossimo video!